in g buon natale buon natale buon natale un po' d'accordo per l'anno per l'anno e' felice anno nuovo per l'anno ciao ciao saluto tutto benedetto non quindi lei cosa mi racconta signor liotto no non le racconto niente al momento e' orfano di di tutto di suggerimenti lei signor Gio ha qualche suggerimento utile i suggerimenti sono orfani di me quindi non si trova suggerimenti utili diciamo ai nostri casi qua citati no io ho molti suggerimenti ma tutti inutili tutti inutili quindi non ne parlate allora fate ciao con la manina ciao con la manina ciao con la manina schiacciamo qua stop ciao 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 ciao